Anche se voi doveste eleggere una maggioranza del Movimento 5 Stelle alla Camera al prossimo giro, con questa riforma il Senato sarebbe sempre loro e passerebbe il tempo a bloccare le nostre leggi. Onorevole Di Maio, le spieghiamo per l'ennesima volta cos'è il superamento del bicameralismo paritario. Con la riforma il Senato non potrà bloccare nessuna legge. Potrà proporre modifiche, ma sarà la Camera a decidere se accettarle oppure no. Punto. Solo per le materie di sua competenza, che costituiscono il 3% dell'attività legislativa dell'attuale Parlamento, avrà gli stessi poteri della Camera. Basta, bufale! Basta un sì!